Per quanto riguarda questo video tutorial ho preso spunto da una rivista specializzata di Photoshop. Si tratta di importare vari elementi in modo tale da arrivare ad avere una visione surreale di questa piazza. Praticamente si tratta di portare con vari fotomontaggi la giungla in Trafalgar Square. Questo diciamo è il risultato finale che dobbiamo ottenere. Quindi si tratta di inserire vari elementi e anche di toglierle. La cosa non è facilissima, cominciamo con la piazza. Si tratta di togliere questo cielo e sostituirlo con un cielo molto più cupo. Questo è il cielo che noi vogliamo spostare al posto di quello effettivamente fotografato. Notiamo che ci sono parecchi elementi che possono creare problemi nella selezione, soprattutto con la bacchetta magica. Quindi tralasciamo questo tipo di strumento e proponiamo una tecnica di selezione che è abbastanza utilizzata quando si tratta di togliere elementi che stanno su sfondi abbastanza complessi. La tecnica è questa. Per prima cosa facciamo doppio clic nel livello sfondo in modo da togliere il blocco. Dopodiché ci portiamo sulla finestra canali che troviamo in questo punto. Se non doveste averla, da menu finestra, vedete qui c'è l'opzione che attiva questa finestra. I canali in breve non sono altro che la suddivisione dell'immagine nei tre colori RGB che compongono la foto. Per esempio, qui si tratta di vedere tutti i pixel rossi con varie intensità che ci sono all'interno dell'immagine. Stessa cosa per quanto riguarda il canale verde, rappresenta ovviamente il colore verde che è nell'immagine con le varie intensità e infine il canale blu. Per noi si tratta per il momento di selezionare il canale che più ha contrasto tra il bianco e il nero. Io direi di scegliere il blu, quindi fatto questa scelta che varia da immagine a immagine, nel mio caso ho sicuramente il blu che è un po' più contrastato, nei bianchi e nei neri. Trascino con il tasto sinistro il mio canale sopra questa iconcina. In questo modo ne realizzo una copia e lo vedo qui. Ora mi sposto nel menu immagine, regolazioni, valori tonali. Faccio un click. Muovendo i corsori di questa finestra faremo in modo di ottenere il più possibile un contrasto tra solo due colori, il nero e il bianco, che poi mi serviranno per realizzare la maschera del cielo. Allora si tratta di muovere questi corsori, vedete, in modo tale di creare il più possibile il contrasto. Ecco, così intanto può andare. Ovviamente non c'è una regola precisa su questa funzione, bisogna cercare un compromesso in modo tale che sia evidente lo stacco tra il nero e il bianco. Così può andare. Diamo ok. Sappiamo che tutto quello che è bianco rimarrà e tutto quello che è nero invece verrà bucato, ossia lascerà trasparire la parte sottostante all'immagine. Quindi portiamoci così. Togliamo sicuramente questi bianchi con il pennello. Eccolo qua. Portiamo un'opacità di 100 e il flusso mettiamolo pure intorno ai 63. Opacità in pratica mi permette di creare una pennellata che può avere più o meno trasparenza, in questo caso non ce l'ha assolutamente. Il flusso invece è la quantità di colori che noi deponiamo durante le nostre pennellate. Allora in questo caso portiamoci, scambiamo i colori, portiamo il nero quindi in primo piano. Vi ricordo che il tasto X scambia i colori di primo piano e di sfondo della nostra immagine. Allora cominciamo con il nero perché si tratta di togliere tutto il bianco in questa parte di immagine. Vi ricordo che con Alt premuto e tasto destro possiamo trascinando il mouse in senso orizzontale allargare o restringere velocemente il pennello a seconda delle nostre esigenze. E sempre con Alt premuto e rotellina ci spostiamo nella visualizzazione dell'immagine. Con Tab invece vedete facciamo il Pan. Scambiamo Alt per allargare un po' e portiamo a bianco, in quanto noi dobbiamo ottenere solo bianchi e neri il più possibile. Bene, ora si tratta di andare a perfezionare queste parti che sono le più difficili, portare queste zone il più possibile vicino al bianco e queste parti invece con ancora un po' di bianco riempire di nero. La tecnica è questa, manteniamo il colore bianco di primo piano e attenzione qui tra le proprietà del pennello, sul metodo andiamo a selezionare luce soffusa, soft light. In questo modo diminuiamo anche l'epocità, portiamola più o meno così così le nostre pennellate saranno più morbide e ci permettono, vedete, con vari clic di togliere queste gradazioni di grigio preservando le parti più scure. Si tratta ovviamente di impostare anche la larghezza del pennello, quella più adeguata. Con alt si lavora in questo modo, si zooma in avanti. Scambiamo il colore di primo piano perché andiamo a sistemare la parte invece di nero, in questo modo. Ecco, possiamo anche utilizzare un altro metodo, non solo luce soffusa in questo caso, ma anche colore brucia. Cosa fa in pratica? Dove trova il nero? Vedete? E lascia abbastanza inalterato la parte. Dove il bianco è più intenso. Diciamo che agisce, in questo caso, sulle tonalità di grigio. Posso tranquillamente anche un po' debordare sul bianco. E non ci sono problemi. Vale lo stesso se noi selezioniamo invece colore schema. Ovviamente impostiamo il bianco e vedete, facciamo una cosa un po' più veloce. L'intensità si può abbassare. Ci sono particolari molto sottili. Ritorniamo invece con luce soffusa. Dove diciamo che l'effetto è molto più morbido. Dobbiamo ovviamente dare moltissimi clic. Scambiamo i colori per recuperare un po' di questa cupola. Bene, mi sposto sul menu livelli. Ho già caricato l'immagine del cielo che devo sostituire, questa qui. Utilizzo lo strumento sposta. Clicco con il sinistro sopra questa immagine e mi sposto, vedete, sopra. E poi vengo giù e rilascio il tasto a sinistra. Eccolo qui. Ovviamente posso spostarlo. Ora torniamo nel menu canali e selezioniamo la nostra maschera che abbiamo realizzato. Per realizzare velocemente una maschera in funzione dei due colori bianco e nero, clicchiamo in questo punto, Photoshop ha realizzato la maschera, oppure annullo. Posso tenere premuto il tasto CTRL e cliccare sopra l'iconcina del canale BluCopia. Ottengo la stessa cosa. Ritorno nel menu livelli, in questo modo. Mi porto nel livello del cielo, eccolo qui. e cliccando su questa iconcina realizzo una maschera di livello. Vedete? La parte nera praticamente diventa la parte trasparente di questa immagine. Qui si tratta ora di spostare. Attenzione perché se faccio questa operazione vedete cosa succede. Quindi prima di fare questa operazione di sistemazione del nostro cielo, devo togliere la catena che vincola la maschera di livello al livello stesso. Quindi faccio un clic, in questo modo, un'altra cosa, sono selezionato sulla maschera, quindi avrei spostato la maschera. Clicco invece sul livello vero e proprio e adesso posso tranquillamente sistemare come più mi piace l'immagine sottostante. Così può andar bene. Vi do appuntamento al prossimo tutorial dove continueremo l'aggiunta di elementi a questa nostra foto. Conosceremo una tecnica avanzata di selezione di oggetti che si trovano su sondi particolarmente complessi. Appuntamento alla prossima.